Cari bambini, dopo aver trascorso una giornata intensa, magari con giochi, disegni, attività, magari mangiato degli ottimi pranzetti, ora voglio dedicarvi una piccola coccola sonora per accompagnarvi al vostro riposino notturno. Allora, tutti a nanna, sotto le lenzuola, occhietti chiusi e shhh. Na nanna, mamma, tienimi con te, nel tuo letto grande, solo per un po'. Una nanna, nanna, io ti canterò, e se ti addormenti, mi addormenterò. Nanna, nanna, mamma, insalata non ce n'è, sette le scodelle sulla tavola del re. Nanna, nanna, mamma, ce n'è una anche per te, dentro cosa c'è? Solo un chicco di caffè. Nanna, nanna, mamma, insalata non ce n'è, sette le scodelle sulla tavola del re. Ninna, nanna, mamma, ce n'è una anche per te, dentro cosa c'è? Solo un chicco di caffè. Quando sarò grande, comprerò per te, tante cose belle, come fai per me. Chiudi gli occhi e sogna quello che non hai, i tuoi sogni poi mi racconterai. Nanna, nanna, mamma, insalata non ce n'è, sette piatti d'oro sulla tavola del re. Nanna, nanna, mamma, ce n'è uno anche per te, ci mettiamo su tutto quello che vuoi tu. Bene bimbi, ora occhietti chiusi, una carezza, un bacio e buon riposo e buonanotte a tutti. Ciao, la maestra Rosi.